buongiorno buon pomeriggio e buonasera oggi recensiamo la blaze video a 280v inizio col farvela vedere esternamente infrarossi non visibili obiettivo triplo sensore qui ci sono i led di stato antenna il wifi di lato c'è la cerniera e il foro per il lucchetto posteriormente abbiamo un altro foro per far passare la cinghia di sicurezza fino ad 8 mm passaggio per la cinghia per fissarla negli alberi vite da un quarto per l'attacco parete presa esterna da 12 volte e microfono per aprirla basta alzarlo da dietro ed eccolo qui come si presenta da dentro questo qui è lo slot per le batterie veramente ben fatto tiene fino ad 8 batterie a non riesce a funzionare anche con quattro basta posizionale o solo a sinistra o solo a destra supporta una scheda tf da massimo 512 giga una montata una da 32 non incluse in confezione qui sotto abbiamo anche l'attacco per passare i dati al pc micro usb chiaramente la slot e il microfono e la presa esterna rimane esterna e non viene coperta come negli altri modelli tipo apeman chiudendo prima di accenderla vi faccio vedere cosa c'è in confezione questa qui è la scatola all'interno troverete la cinghia per fissarla negli alberi il cavo micro usb per passare i dati al pc e due manuali uno per l'applicazione e uno per gli altri dati tecnici mettete in pausa il video se volete salvarvi tutti i dettagli il manuale per l'applicazione addirittura colori però non in italiano ora accendiamo faccio vedere qualche impostazione e poi vi darò qualche parere personale a differenza delle altre foto trappole qui troviamo solo uno switch con off e on e noi ora la mettiamo su on ed è welcome ed è ora si è già attivata per il resto è come tutte le altre foto trappole ovvero primo mod ci sono tutte le modalità foto video ho solo foto e video il wifi risoluzione foto massima di 32 megapixel scatto continuo fino a cinque foto video ad una risoluzione massima di 1296 potrei scegliere full hd o hd lunghezza video qui a differenza delle altre foto trappole possiamo scegliere la durata delle video diurno e notturno il tasto sono dei tasti formato video possiamo scegliere mp4 mob intervallo sensibilità alta media o bassa sensori di movimento laterale possiamo scegliere se attivarli o disattivarli motion test se clicchiamo ci fa vedere il testo andiamo in modalità test praticamente ma grazie l'intervallo timelapse il fuso orario che possiamo scegliere 12 vedete fuso orario data e ora formato data formato ora possiamo scegliere scegliere di metterla 12 pm o am o 24 ore nome della fotocamera possiamo scegliere strisce informativa sulla scrizione lupo ovvero quando la memoria sarà piena inizia inizierà a cancellare i video vecchi o vedi funzionamento sarebbe il timer parola d'ordine la password che la lingua il formato formatare la scheda impostazione predefinita e la versione premendo ok ci sono i vari tasti quindi andando a destra il video partiva che c'è capriolo per eliminare un video per schiacciare il tasto sinistro che c'era tutto elimina corrente una volta settata la fototrappola per attivarla dovremo cliccare il tasto start pronto per il levamento si è già attivata ma noi per attivarla in modalità test basta che premiamo start mi riesce attiva per spegnerla off poi farò vedere un breve video dove vi parlerò dell'applicazione allora questa è l'applicazione che si chiama trial cam mobile mobile clicchiamo ora basta avere il bluetooth e il wifi attivo qui l'avevo già registrato andiamo su fotocamera e vi dice collegare clicchiamo e ora noterete che farà tutto in automatico tranne per una piccola conferma aspettiamo vedete passaggio 4 ricerca dispositivi tra il cam mobile utilizzare una rete wifi temporanea per potersi al dispositivo siamo connetti ed ecco fatto iniziare ora siamo in tempo reale giù in fondo abbiamo lo stato portazione e galleria che possiamo vedere tutte le registrazioni per esempio clicchiamo uno qui a caso avete che i caricamenti sono anche abbastanza veloci ci sono tre caprioli devo dire che l'antenna riceve molto bene anche una cinquantina di metri di distanza senza ostacoli prende bene il segnale qui sotto potete salvarlo o eliminarlo ed ecco qui per scollegarvi basta che andate su in cima a sinistra sulla casetta disconnetti ed ecco qui ora la fototrappola si è disconnessa e si riattiverà e così è come si presenta la fissata il supporto è uno che avevo già avendo molte fototrappole quelle confezioni lo lascio sempre lì inutilizzato questo cavo qui è da 8 mm e sta a pelo a pelo quindi se dovete prenderne uno prendetelo al massimo da 8 mm questo modello qui è molto lungo mi sembra che faccio un metro e ottanta e è a chiave la marca è Master Piton e vi lascerò probabilmente il link in descrizione ci sono dei modelli da 5 mm 8 mm e 10 mm il prezzo è di circa mi pare 24 euro quello da 8 mm allora opinioni personali questa fototrappola la trovate nel sito di blazer video all'incirca a 100 euro potete scegliere vari colori tra cui questo l'applicazione di questa fototrappola veramente ben fatta a mio parere superiore di quella di usergood potete vedere i video senza prima scaricarli e in modo veloce questa antenna qui vi farà prendere il segnale wifi molto bene anche oltre 50 metri però ricordatevi che per attivarla ci vuole bluetooth quindi dovete comunque avvicinarvi la fototrappola attivarla tramite la fai e poi eventualmente potete allontanarvi sinceramente per il suo prezzo di 100 euro la trovo superiore rispetto alle usergood e i modelli di colife perché ho trovato molti pochi falsi scatti esteticamente è molto bella e funzionale la qualità video è molto buona sia di giorno che di notte dovete comunque ricordarvi che di notte non avete la stessa nitidezza dei video diurni nonostante ciò avendo anche gli inforossi non visibili ha un ottimo è un'ottima qualità ora vi lascio i video che ha ripreso quindi giudicherete voi dovete sempre considerare che su youtube i video calano un po di qualità ma comunque io farò degli zoom se necessario tramite il mio software di premier così potrete vedere effettivamente la risoluzione pura quindi se avete un centinaio di euro da spendere per una fototrappola questa qui ve la consiglio ovviamente l'obiettivo è grandangolare come avete notato i sensori ebbene spero che il video vi sia stato utile e buona visione per il video vi sia stato utile e buona visione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.